Dopo i tanti abbracci che hanno accolto Papa Francesco ad Assisi e bracci di pace dei rappresentanti delle religioni del mondo, protagonisti della giornata mondiale di preghiera per la pace, il dialogo è proseguito nel refettorio del Sacro Convento durante il pranzo comune. I 450 rappresentanti e i 12 rifugiati hanno ascoltato il Presidente della Comunità di Sant'Egidio in Pagliazzo ricordare il 25esimo anniversario del patriarcato del Patriarche Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. Nel pomeriggio alle 16 i rappresentanti delle diverse religioni si sono raccolti per pregare per la pace in diversi luoghi della città di San Francesco, i cristiani nella Basilica Inferiore, sopra la tomba del poverello, i musulmani nella cappella di Fratellia del Sacro Convento e nel chiostro dei morti gli ebrei e poi in altri luoghi buddhisti e shintoisti, le religioni indiane con jainisti, zoroastriani, sikh e hinduisti e infine i taoisti. Nella preghiera ecumenica dei cristiani le meditazioni dell'arcivescovo di Canterbury Welby e di Bartolomeo I hanno preceduto quella del Papa. Di fronte a Cristo crocifisso, ha detto Francesco, noi cristiani siamo chiamati a contemplare il mistero dell'amore non amato e a riversare misericordia sul mondo. Siamo chiamati ad essere alberi di vita come la croce che trasforma il male in bene, ad assorbire l'inquinamento dell'indifferenza e restituire al mondo l'ossigeno dell'amore. Serve però essere uniti a Cristo come suoi discepoli e vicini a chi soffre, perché Cristo sulla croce dice «ho sete», sete di donarci l'acqua viva del suo amore, ma anche di ricevere il nostro amore. Noi cristiani dobbiamo dissetare il Signore con il nostro amore compassionevole, chinandoci sulle miserie altrui, ha concluso il Pontefice, rispondendo al grido troppe volte ignorato delle vittime delle guerre, di coloro che vivono sotto i bombardamenti o sono costretti a migrare verso l'ignoto, spogliati di ogni cosa. La preghiera si è conclusa con l'invocazione di pace per tutti i paesi in guerra e i focolai di tensione, dalla Siria alle due Coree, dall'Afghanistan al Congo. Per ciascuno è stata accesa una candela. L'abbraccio di pace tra tutti i partecipanti ha suggellato con forza profetica il momento. Grazie a tutti.